Non è un semplice pubbaccio. Allora, tu ci attacchi un telefono o una coppia con la musica. Si sente la musica e il pubbaccio balla. Balla e si sente la musica. Grazie. Ok. Wow. Bello. È bello, grazie. bene bene bello gorda wow grazie Lara grazie c'è ci la pai wow wow ma ma in cara grazie grazie ecco a doppio grazie 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 bello grazie bello grazie ecco grazie 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 wow 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 grazie 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 devi leggere c'è l'ho anch'io 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 è il gioco più bello del mondo dai dire dai dire c'è l'ho anch'io c'è l'ho anch'io c'è l'ho anch'io